Noi dei che consorzi di bonifica, crediamo. Crediamo in un territorio sicuro, lavoriamo ogni giorno per preservarlo e migliorarlo. Con una manutenzione costante dei canali e delle idrovore, guardiamo ad un Veneto senza più alluvio. Guardiamo ad un futuro sostenibile e in sicurezza, perché è il nostro territorio, dove ogni giorno mettiamo il cuore. Gestiamo un patrimonio formato da 400 idrovore e 25.000 km di canali. Consorti tecnologici e all'avanguardia quindi, che conoscono e lavorano con l'acqua, producendo energia elettrica, ricaricando la falda acquifera o combattendo la risalita del cuneo salino. Crediamo nella nostra attività, valorizzando le produzioni tipiche del Veneto, contribuendo a rendere i prodotti della nostra terra migliori, fornendo acqua a 600.000 ettari di campagna. Cerchiamo continuamente di innovarci, come per i Reframe, il sistema di gestione dell'acqua in agricoltura, la nostra esperienza protagonista all'esposizione universale Expo Milano 2015. Consorzi di bonifica, una grande squadra. Al lavoro per il territorio.